Questo video illustra come realizzare un esperimento per la verifica di F uguale a MA con un sistema online Pasco Science Workshop. Per realizzare l'esperimento avete bisogno di un'interfaccia 500 o superiore, di un sensore di posizione ad ultrasuoni, oppure, in alternativa, di un semplice fototraguardo. Qualunque modello va bene. Per realizzare il moto che andremo a studiare vi serve un sistema rotaia-carrello a basso attrito ad aria o meccanico, per esempio l'M9429A Pasco, un kit di masse e portamasse, masse calibrate con la risoluzione di almeno un paio di grammi, un po' di filo, va benissimo il normale cotone da cucito, ed una puleggia a basso attrito. Nel caso del sistema Pasco la puleggia è inclusa con la rotaia. Inutile dire che avete bisogno anche del computer su cui far girare il software Science Watch. Cominciate col disporre la rotaia leggermente a sbalzo rispetto al tavolo. Collegate la puleggia all'estremità a sbalzo della rotaia. Se utilizzate la rotaia Pasco la puleggia può essere montata in due posizioni sul suo supporto. Utilizzate quella alta. In questo caso collegarla alla rotaia risulta assolutamente semplice. L'altezza della puleggia è regolabile. Se utilizzate una rotaia Pasco avrete preventivamente montato il paraurti con la parte in velcro verso la direzione da cui arriva il carrello. Scopo dell'esperimento è verificare come varia l'accelerazione che subisce il carrello al variare della massa attraente che verrà fatta scendere giù dal tavolo grazie alla puleggia. Per minimizzare l'attrito nel caso utilizzato nella rotaia meccanica potete usare questo espediente. Inclinate leggermente la rotaia mediante spessori o con le sue viti di regolazione in modo che il carrello vada leggermente in discesa. Pochissimo. Quel tanto che basta affinché non si sposti se lasciato fermo sulla rotaia ma una volta messo in movimento proceda per un po' almeno a velocità costante. Siete al pelo del vincere l'attrito volvente pur senza riuscire a vincere quello radente. Legate poi il portamasse al filo. Regolate la lunghezza del filo o la posizione del paraurti in modo che il pesino arrivi a sfiorare terra senza toccarlo quando il carrello è a fine corsa. Per rendere più stabile la rotaia durante l'esperimento per fare in modo che non si sposti potete applicare un po' di plastilina al paraurti per ammorbidire l'urto del carrello. La procedura sperimentale che viene più naturale cioè quella di mettere via via più pesini sul portamasse e ogni volta misurare l'accelerazione del carrello non è concettualmente corretta in quanto così facendo si altera la massa complessiva del sistema. La procedura che invece suggeriamo è la seguente. Si pongono all'inizio tutti i pesini 2-5 grammi sul carrello e si misura l'accelerazione del carrello tirato dalla massa del solo portamasse che nel caso del sistema Pasco è 5 grammi. Poi mano a mano si spostano pesi dal carrello al portamasse a passi di 2 o 5 grammi. Così facendo la massa del sistema complessiva rimane invariata ed è facile determinare ponendo su una bilancia tutto il sistema carrello e portamasse con i pesini nel nostro caso 525 grammi. La preparazione dell'esperimento è un po' diversa in base al fatto che stiate utilizzando un sonar oppure un fototraguardo. Nel caso del sonar collegate i due spinotti ai canali digitali e all'interfaccia lo spinotto giallo nel contatto 1. Se utilizzate il sonar disponetelo semplicemente appoggiato sulla rotaia e ruotatelo in modo che la sua faccia sia verticale. Per la predisposizione nel software è sufficiente trascinare l'icona che rappresenta i sensori digitali sul canale 1 e scegliere sensore di moto ok. In questo punto potete leggere la lettura attuale del sensore verificate che muovendo il carrello esso venga seguito in tutto il suo movimento. Se invece utilizzate il fototraguardo esso va montato in modo che il suo fascio luminoso intercetti i raggi della puleggia. Questo viene confermato quando il fototraguardo è alimentato dall'interfaccia dall'accendersi spegnesi della lucina rossa. Per montare il fototraguardo come vedete è stato utilizzato un supporto dalla rotaia normale rovesciato cioè è stato tolto il fototraguardo e la vite è stato capovolto in questo asse e rimontato. Così facendo è regolabile la posizione del fototraguardo e lo si può disporre in modo che intercetti i raggi della puleggia. La predisposizione nel software avviene selezionando dai sensori digitali sul canale 1 Smart Pulley lineare ok il sistema già conosce il diametro della gola della puleggia per cui può determinare ogni raggio quanto filo è passato il filo naturalmente è solidale col carrello il fototraguardo ha lo spinotto collegato al canale digitale 1 dell'interfaccia eccoci allora l'esecuzione dell'esperimento vero e proprio l'esperienza insegna che si hanno risultati migliori con un carico traente tra i 10 e i 20 grammi partiamo quindi da 10 grammi abbiamo spostato un pesino da 5 dal carrello al portamasse cominciamo a raccogliere i dati con Alt R e lasciamo il carrello libero di scendere Alt punto termina raccolta dati a questo punto si sposta un'altra massa sul portamasse e si ripete la misura andiamo a vedere i nostri risultati trasciniamo l'icona grafico su quella del sensore e selezionate di voler vedere un grafico di posizione e di velocità visualizza ingrandite la finestra col tasto sigma primo tasto della prima riga di pulsanti riservato una zona a destra per le statistiche e col tasto autoscala tasto più a destra della prima riga autoscalate il grafico il grafico di posizione ha la forma di un ramo di parabola ma quello che ci interessa è quello in basso di velocità chiediamo al software dalla lista delle statistiche di calcolare un fit matematico lineare il coefficiente angolare della retta di regressione della velocità è naturalmente l'accelerazione che stiamo cercando in questo caso 0,187 metri al secondo quadrato notate che è possibile se la puleggia striscia leggermente avere anche dei punti in questa zona in questo caso per limitare la regressione lineare a un'area di punti è sufficiente trascinarla e evidenziare i punti che si vogliono includere nella statistica in questo caso con tutti i punti allineati il valore numerico cambia solo in maniera rilevante questo grafico mostra l'andamento della velocità con masse traenti di 10 12 e 14 grammi come vedete nella raccolta verde c'è un punto che si trova in basso quindi per fare la statistica su questi punti bisognerebbe selezionare un rettangolo che esclude il punto sbagliato con la lista dati che si trova presso l'asse verticale potete selezionare quali raccolte fare visualizzare fino a un massimo di 3 per esempio qui abbiamo visualizzato la terza la quarta e la quinta notate che alcune hanno il famoso punto o due punti più in basso questo file di dati raccolti col fototraguardo si trova sullo stesso disco su cui trovate questo video col nome FMA Fotot nel caso in cui utilizzate il sonar la procedura sperimentale naturalmente è la stessa portate il carrello all'estremità della sua corsa limite che è dato più che altro dalla lunghezza del filo cominciate a raccogliere con Alt R e lasciate scendere il carrello Alt punto per terminare la raccolta naturalmente la prima raccolta si fa con 10 grammi di forza traente poi via via si sale anche nel caso del sonar non è difficile ricavare l'accelerazione basta trascinare il grafico sull'icona del sensore chiedere grafici di posizione e velocità visualizza ingrandire riservare lo spazio per le statistiche autoscalare eseguire un fit lineare della parte rettilinea della velocità questa zona coefficiente angolare ci dà direttamente l'accelerazione tutti i dati raccolti col sonar sono disponibili nel file fmasonar.svs che si trova su questo stesso disco sempre su questo disco trovate anche il file excel che si chiama f uguale ma sonar e fototraguardo dove per vostra comodità i dati raccolti sono stati tabulati e dove è stata calcolata anche la precisione dei risultati ottenuti una piccola annotazione è possibile ottenere sia col sonar che col fototraguardo anche l'accelerazione direttamente dai dati misurati dal sistema cioè il grafico di accelerazione tuttavia risulta evidente come in questo caso come sia più comodo misurare l'accelerazione come regressione lineare della velocità qualche brevissimo suggerimento finale regolate la puleggia in modo che questo tratto di filo sia quanto più orizzontale possibile e controllate bene che non sfreghi sotto questa sorta di funghetto solidale a paraurti che serve normalmente ad attaccare delle molle il filo dovrebbe poterci passare sopra liberamente ricordate infine che il parametro più critico da regolare è proprio l'inclinazione zero della rotaia dovete arrivare al punto in cui il carrello sta fermo da solo ma appena messo movimento prosegue al limite potete effettuare alcune raccolte inclinando progressivamente sempre di più la rotaia fino a raggiungere questa situazione se tutte le procedure vengono eseguite correttamente questo esperimento non dovrebbe dare un errore superiore al 2-4% per qualsiasi informazione o anche per una semplice curiosità contattateci i nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione grazie a tutti